Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotessi. Ho creato una nuova poesia da titolo Zizzania. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Ho creato questa poesia da titolo Zizzania perché a volte molta gente mette malumore solo per il gusto di giocare tra la gente seria e vuole a tutti i costi provocare per creare dei disordini. Quindi queste persone vuote sono disposte a tutto pur di realizzare le loro opere e vedere un mondo in sfacero, distrutto e poi magari spuduratamente prima fanno la guerra e poi dicono non ho fatto niente, negando anche il fatto evidente. Se vi vai a far notare i loro errori ti minimizzano dicendo pure va bene ma ho sbagliato sempre con quell'aria di superiorità quindi è un triplo gioco per far stare male gli altri. La Zizzania è una brutta bestia e cresce quasi sempre dove sta tanta gente buona che viene confusa da idee negative quindi quando vediamo quelle persone che vanno nelle commitive vanno a mettere certe idee strane per appunto accapararsi delle persone dalla parte loro e mettendo gli altri a disagio ecco abbiamo trovato uno dei tanti esempi per metterci in chiaro l'idea che stiamo realizzando. Vi leggo adesso appunto la poesia da titolo Zizzania. Molta gente mette Zizzania solo per il gusto di giocare tra la gente seria vuole tutti provocare molte persone vuote sono disposte a tutto pur di realizzare le loro opere e vedere un mondo distrutto ipocriti nati che poi ti dicono pure spudratamente non ho fatto niente negando anche il fatto evidente. La Zizzania brutta bestia cresce quasi sempre dove sta tanta gente buona che viene confusa da idee negative. Grazie e se vi è piaciuta la poesia sbagliatela a tutti i vostri contatti Whatsapp. Arrivederci!